Dai la cuffietta fa molto artista o sette nani ma in realtà è solo per una motivazione estetica che l'ho indossata Benvenuti in un format che verrà fuori in maniera molto casuale, una tantum, perché a me piace molto disegnare e quindi questo format che chiamerò così Drawing Joe sarà un format che appunto verrà fuori di tanto in tanto per spezzare un po' tutto il mio blatterare su tutti gli altri argomenti nel quale io vi farò vedere i miei disegni Periodicamente io per sfogarmi, è proprio una modalità di sfogo, scelgo sempre di disegnare dei soggetti parto da una reference e poi gli aggiungo dei dettagli e la colorazione insomma in maniera abbastanza personale Vengono fuori dei quadretti per la camera, dei segnalibri e via dicendo Dato che siamo nel mese del Natale ho deciso di rappresentare uno dei miei film natalizi preferiti Ovvero Nightmare Before Christmas Una scena con Jack e Sally che sono una delle mie coppie preferite Vedrete in timelapse tutto il mio disegno in modo che possiate vedere come l'ho realizzato e via dicendo Vi avviso subito che ho un disegno completamente in bianco e nero Formato Adriano 4 e diventerà poi uno dei quadretti in camera mia Ho deciso di realizzarlo tutto in bianco e nero perché penso che Nightmare Before Christmas renda molto di più in bianco e nero che non ha colori In bianco e nero con... sono partita con la matita per fare la bozza E poi la colorazione l'ho fatta a penna Sfumando pastello grigio e pastello nero per fare le ombreggiature E il pennarello in Deleville nero per fare le parti che sono effettivamente nere e rimangono nere Tra l'altro non so se lo notate, poi fatemi sapere qua sotto nei commenti se l'avete beccato Ho fatto un piccolo errore ripassando la bozza con la penna Però sono riuscita a trasformare questo errore in un dettaglio molto molto carino e romantico Mi raccomando occhio e partiamo subito Boom! A presto! 2 2 י Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.